Siamo nella foresta demaniale del Chiarino, all'interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Una foresta straordinaria, con delle particolarità veramente interessanti. Particolarmente interessante in quest'area è la grandissima biodiversità vegetale che incontriamo. Il Biancospino, con le sue caratteristiche fioriture bianche. Ecco un magnifico esemplare di pruno selvatico, veramente un gigante per la sua specie. E poi abbiamo due aceri, un acero di monte e un acero campestre. Due aceri di due specie diverse, ma che vivono vicini e che possiamo distinguere essenzialmente per il colore della corteccia e per la dimensione delle foglie. L'acero di monte ha le foglie più grandi, l'acero campestre ha le foglie molto più piccole. Ecco, adesso siamo nella faggeta della foresta del Chiarino, con alberi colonnari, anche secolari. E siamo sul bordo, nei pressi del torrente Chiarino, che dà il nome all'intera foresta. E' una particolarità interessante che quella che vediamo scorrere è l'acqua che bevono gli aquilani.